In questa zona del Benito Sirpe con Mauro Vigorito. Mauro, innanzitutto complimenti, un esordio migliore non lo potevi chiedere. Grazie, no, no, non lo potevo chiedere sia per il risultato finale che a livello personale, quindi sono molto soddisfatto della giornata di oggi. Una vittoria importante che ci consente di mantenere il primato e soprattutto di allungare a sei punti dal Palermo terzo in classifica. È molto presto per vedere la classifica, però è importante comunque questa vittoria. Sì, come ha detto se il presidente mi parla allenatore, forse la classifica è meglio guardarla verso la fine. E' ovvio che è un passo importante e il fatto che i risultati ieri siano andati in questo modo oggi imponeva quasi di vincere per sfruttare questa piccola occasione. Però la strada è veramente lunghissima, quindi bisogna ancora abbassare la testa e pedalare tanto. Mauro, più difficile la parata del rigore oppure su quel colpo di testa di Monachello? Sì, più sul colpo di testa di, mi pare forse, Canuteno Monachello, ma sicuramente sì perché era una palla che schizzava. Però è andata bene, va bene tutto oggi. Tra l'altro esordi in una giornata molto complicata, con terreno di gioco molto insidioso per via della pioggia. Ti aspettavi una gara del genere? Sì, sì. Purtroppo quando il tempo è così la velocità della palla raddoppia, è di più difficile per tutti. Anche per chi ovviamente deve controllare e calciare, però per un portiere la difficoltà magari aumenta. La gara, sapevamo che era una gara difficile perché Lascoli si trova in una posizione classifica complicata e ha bisogno di fare più punti possibili per salvarsi. Poi la B non credo che esista una partita facile. E oltretutto, ripeto, i risultati di ieri hanno aggiunto quel pizzico di pressione in più nel dover fare il risultato. Sabato prossimo in casa con il Perugia, che partita di aspetti? E' un'altra partita complicata. Ieri il Perugia ha fatto una vittoria importantissima col Palermo, meritata, perché guardavo le partite, credo sia stata meritata. E' una squadra organico importante, in ripresa, e noi giochiamo in casa davanti al nostro pubblico e dovremo cercare di proseguire con questa continuità perché è la cosa che porta in fondo in Serie B. Mauro, adesso siamo a più sei dalla terza in classifica. Come si gestisce questo momento? Non penso che vada gestito, nel senso che guardare la classifica, ripeto, adesso è relativo. Bisogna, ripeto, abbassare la testa senza pensare a tanti calcoli e pensare partita dopo partita. Mancano 15 partite. Ora c'è il Perugia, bisogna pensare al Perugia e basta. Poi alla fine si faranno i conti. Mauro, una cosa per www.giolupadimalci.com. Tu hai una storia speciale che ti dà i gabbrighenti. Sì. Ho visto che oggi è venuto a abbracciarti subito dopo il rigore. Mi racconti un po' il rapporto che vi lega dopo quello che è successo. Ma già prima di quel fatto eravamo veramente legati perché abbiamo giocato insieme tre anni praticamente. E' un ragazzo spettacolare. Poi la sfortuna, potuto che l'incidente del pancreas sia stato con me. Lui sicuramente di più. Io ho passato i mesi difficili perché veramente il vederlo quando andavo a trovarlo in quelle situazioni ti senti un po' responsabile. Però questo ragazzo ha una forza che è una cosa incredibile. E spero che abbia le migliori gioie della vita di giocare in Serie A perché veramente con tutto quello che ha passato è una roccia e si merita il meglio. Cosa ti ha detto a fine partita? Ho visto che è venuto subito da te. No, cosa mi ha detto non si dice. Però mi ha fatto piacere, mi ha detto delle belle parole. Ti ripeto, abbiamo come hai detto tu un legame speciale e sono stato veramente contento di ritrovarlo qua a Frosinone e poi giocare con lui e veramente avere una sicurezza in più. Anche tu già hai avuto un passato in Serie A con Allegri, giusto? Sì. Stato a lanciarti. Che ricordi hai di quella partita di quel Cagliari-Fiorentina? Ho avuto la fortuna di esordire presto, diciamo, col mister perché veramente si vedeva già che era una persona che avrebbe fatto strada perché è uno che ha fame ed è bravo a gestire le cose. Io ricordo indelebile perché è stato l'esordio in Serie A con la squadra per cui tifo, per cui faccio il tifo e insomma è la cosa più bella che ci possa essere giocare per la propria maglia. Poi per noi sardi il Cagliari è come una nazionale quindi è stato ancora più bello. L'ultima cosa dopo 25 partite a sedere. Hai una dedica speciale? Sì, la dedica che posso fare, che mi sento di fare è delle persone che quest'estate quando stavo a casa dopo il tragico, tra virgolette, pirulo di Vicenza mi sono stati vicini, sono i miei genitori, la mia ragazza e i miei amici più cari che in quel mese, mese e mezzo per me è difficoltà perché la prima volta mi trovo in una situazione del genere e mi hanno aiutato quindi per loro sicuramente sono stati i più vicini. Quanto ne dirigite? Grazie. Grazie.